È stata firmata oggi dal sindaco Cialente la prima ordinanza di sgombero degli appartamenti del progetto case con i balconi a rischio crollo. Si parte con gli alloggi di Cese di Preturo e poi si passerà a quelli di Sassa. Sono questi i nuclei del progetto case interessati dal problema balconi. Si tratta dagli appartamenti, ovviamente, 494 in totale, con i balconi sequestrati a causa del crollo del settembre 2014. L'inchiesta che ne è scaturita ha portato all'iscrizione, nel registro degli indagati, di 37 persone che devono rispondere di truffa aggravata, frode in pubbliche forniture, falso in atto d'ufficio e crollo. Attraverso un rilievo termografico portato avanti sui balconi dove il crollo, si è riscontrato che in questi appartamenti che si andranno a sgomberare ci sono infiltrazioni di umidità in diversi balconi. Cialente, che a più volte ribadito come la sicurezza venga prima di tutto, ha deciso di firmare l'ordinanza. Nel giro di un mese, dunque, si completerà l'evacuazione di questi alloggi, ma poi si vorrà il problema di cosa farne dopo. Bisognerà infatti capire se i solai degli appartamenti siano resistenti o meno. Alcuni alloggi negli anni, ha rilevato il sindaco, hanno avuto molti problemi, altri invece non ne hanno avuti per nulla. Ma è evidente che la sicurezza degli occupanti vada messa al primo posto, come la garanzia di un alloggio solido e senza rischi.